A Venafro quest'anno l'organizzazione dei festeggiamenti per la ricorrenza dei Santi Patroni è a rischio. La notizia del clamoroso, stante il forte legame della cittadinanza con i suoi Santi Nicandro, Marciano e Daria, le celebrazioni religiose culminanti con la grande processione del 18 di giugno naturalmente non subiranno alcuna variazione. A rischio invece l'aspetto diciamo così prosaico, quello cioè legato ai festeggiamenti e agli spettacoli di intrattenimento. Il finanziamento degli eventi in cartellone si sa è affidato alle donazioni della cittadinanza, il reperimento dei fondi reso possibile dall'impegno dei membri del comitato festa. I volontari, una decina, divisi in gruppi ogni anno a partire proprio da questo periodo si dedicano alla raccolta delle offerte visitando ogni casa. Si tratta di un onere che richiede a chi lo porta avanti dedizione e impegno. Quest'anno si registrano difficoltà nell'allestimento di quel comitato. Al momento avrebbero infatti aderito 4 o 5 persone, meno della metà rispetto a quelle necessarie. Sabato ci sarà una riunione da cui potrebbero emergere novità positive, ha annunciato stamane il responsabile della Proloco, Giustino Guarini, da noi contattato telefonicamente. Il presidente di quell'associazione da quest'anno ha assunto la responsabilità dell'organizzazione della festa a seguito del passo indietro di Ernesto Cardarelli, per 11 anni a capo del comitato in questione. Intanto il sindaco della città, Alfredo Ricci, in queste ore è impegnato in una sorta di moral suasion, nell'intento di spronare chi può a dare una mano. Il porto è quello di spingere quanto più possibile, di convincere, di sollecitare le persone, i cittadini venafrani legati a questa tradizione, oltre che al culto per i santi martiri, a impegnarsi in prima persona. Certe tradizioni camminano comunque sulle gambe di chi si impegna per organizzarle ed è evidente che se non ci si impegna tutti, ognuno per il ruolo che ha, per il tempo che può dedicare, certe tradizioni poi possono venire meno. Sono convinto che questo non accadrà, sono abbastanza fiducioso sul fatto che alla fine i venafrani sapranno impegnarsi, tutti, però dobbiamo a questo punto stringere un poco le questioni e in qualche maniera metterci la faccia e partire. Ecco, io approfitto anche di questo mezzo che mi mettete a disposizione per fare un appello a tutti i cittadini di Venafro che possano essere interessati a impegnarsi in prima persona, a farsi avanti in modo da poter organizzare questo comitato quanto prima e partire con l'organizzazione che sappiamo essere complessa. Grazie a tutti.